Il racconto del nuovo collaboratore di giustizia Nino Pipitone che sta riempendo pagine e pagine di verbali in questa prima fase della sua collaborazione consente di accendere nuove luci su episodi consegnati all'oblio. Pipitone deve in questo momento corroborare la sua scelta di collaborare offrendo riscontri concreti ed è per questo che da ieri i carabinieri attrezzati con georadar ed escavatori stanno cercando nelle campagne di Carini nella zona che corre lungo la strada provinciale che conduce a Torretta i resti di due persone una strangolata l'altra uccisa con un colpo di pistola e poi chiusa in un bagagliaio di una Fiat Uno che sarebbe stata sotterrata. Secondo Pipitone sarebbero morti così 17 anni fa Antonino Faille e Giuseppe Mazzamuto. Di quei cadaveri nessuno aveva mai parlato e anche se i corpi non sono mai stati trovati per quel duplice omicidio è stato condannato Gaspare Pulizzi un altro collaboratore di giustizia. Faille e Mazzamuto sarebbero stati eliminati per ordine dello piccolo padre e figlio che li ritenevano responsabili della scomparsa di un loro parente. Ma in quello che potrebbe rivelarsi un nuovo cimitero della mafia si troverebbe anche il corpo di una terza persona il vecchio boss Lino Spatola anche lui ucciso su ordine dello piccolo dai quali si era recato con un coniglio e una bottiglia di champagne. Secondo Pipitone anche i regali vennero sotterrati con Spatola. 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 Grazie a tutti.